Buongiorno a tutti Questo nascondino qui perché guardate Cosa esce scritto Scorta e l'erubbio fino alla spiaggia Però noi l'erubbio lo lasceremo Lì non so dove è andato a finire L'erubbio Oh che ore che schiacciate La gente Allora praticamente noi dobbiamo fare il nascondino Non qui Ma c'è tipo un mini porto Che là viene fantastico Il nascondino Andiamo andiamo Buttiamo fuori un te che abbiamo d'occhio e prendi il muretto Sui prendi il muretto sui Andiamo raga No Aspettate per di qua No sui sono sceso Carrozzo carrozzo Perché è sceso? Non lo so Sali su Ok Si entrava da qua Sì sì guardate che meraviglia Stupendo fare il nascondino qui Noi ci andiamo a mettere esattamente Sui Vabbè Potete scendere Oh è sta a volare Oh Simo stava a volare No no È vivo Simo Sì è vivo Ok E direi che Posso iniziare a contare Sì sì I nomi ci sono Ah non ho aspettato un attimo Devo togliere i nomi eh Ok Adesso non posso vedere nessuno Io mi metto a contare qui Perfetto Via Possiamo andare Allora prendiamo una cipetta Sì sì Prendiamo questa qui E andiamo a cercarli con questa bella cipetta Regà È bella l'isola eh Bella rilassante Allora Dove stanno questi suini Vedete qualcuno? Adesso non vedo nessuno Ehi Possivo Già l'ho trovato Non ce l'ho io crede Ma aspettate Come si sali qua? Au Aspettate un attimo Ok ok Possiamo trovato Era lui che c'ha power completino Vuoi sali con me sui? Ok ok Allora E dobbiamo trovare gli altri Dove si sono nascosti? Qua c'è qualcuno Scendiamo un attimo Allora vediamo un po' Qua sembrerebbe che non c'è nessuno Vero? Eh pure lì dobbiamo controllare eh Vediamo qui No qua non c'è nessuno Qua riga All'angoletto Nessuno Eh qui poteva essere un buon nascondiglio eh Oh no scusami scusami Qua c'è qualcuno? No non c'è nessuno qui Dobbiamo vedere anche in acqua eh Aspettate un attimo che ci tuffiamo Non qui ma qui Olè Vediamo se c'è qualcuno qui Non vedo nessuno eh No no non credo non credo Qui non c'è nessuno Saliamo qui Carino questo ponticello eh Ok Andiamo a prendere di nuovo la gipetta Allora Dobbiamo vedere per di là Andiamo 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 Ne mancano tre Peccato che per quattro Scusate per cinque giocatori in nascondino Perché più giocatori non potevano entrare Qui non c'è nessuno Mettiamo la prima persona raga No no leviamola Leviamola Ok Scendiamo un attimo Guardate questo cespuglietto Se qualcuno si metteva tipo così No non si appoggia C'era un cespuglietto Oioioioio sui Esci fuori Eh chi è? Aspettate un attimo Mannaggia che si è alzato raga Se no non lo vedevo eh Mi dispiace sui ti ho trovato Colpa tua che ti sei alzato eh Ok Non so chi è eh È Giovi? No Giovi c'ha il simboletto Aspettate Ne mancano esattamente due Qua c'è qualcuno No credo di no sapete Controlliamo qui No 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 Non c'è nessuno Saliamo nella gipetta Sui puoi salire con noi eh Oh non suona il claxon Ah non puoi suonare il claxon Nell'isoletta Qua chi c'è? Scendiamo qui Ma allora Qua dentro nessuno Qua fuori nessuno No no dentro non lo so raga Stavo dicendo Qua dentro Per cui Mi sembra strano Che si nascondano Si può entrare? No Eh sì Era facile Questo è Giovi Sì sì Trovate Giovi Ne manca solo uno Forse la Manca il limoncello Caroz Caroz Si può andare qui? No Non si può salire Aspettate Qua c'è qualcuno No non credo Allora Saliamo di nuovo Nella gipetta Potete salire anche voi No massimo Tre giocatori Quasi sì Chi sale? Oh già vi rimane a piedi Poverino Vediamo se c'è qualcuno Qui Eh là sopra Era un buon nascondiglio Poi ci andiamo In caso Qua dobbiamo controllare Vediamo un po' Allora Non c'è nessuno Eh Caroz Si è nascosto bene Aspettate No Sembrerebbe Che non c'è nessuno Qua dietro Non abbiamo controllato Però eh Vediamo No No Non c'è nessuno Qua no In questi cespuglietti No Sembrerebbe Di no Qua sopra Regà Non lo so Non lo so Poi le controlliamo Queste torrette Per adesso Proseguiamo Ah carazzo Che mi ha portato La cipetta Sui Molto Molto Gentile Allora Sali Ok Che sta a fare Giovin La barchetta Allora E' proprio Rilassante Quest'isoletta Perché E' silenziosa Sentono solo Gli uccellini Ok Ah Qua ci potrebbe essere Qualcuno Aspettate Qua sopra La barca Chi c'è C'è qualcuno Qui No Ma dove sei nascosto Caroz Allora No Qui dietro No Qua non c'è nessuno Qui non credo Regà Non lo so Ah Non lo so Non so E' terri nascosto No Qua non c'è nessuno Aspettate Lasciamo la cipetta Lì Regà Non è che Mentre camminavo Mi è sfuggito Non lo so Non lo so Le torrette Io vorrei vedere Aspettate un attimo Usiamo il telefonino No Oppure potrebbe essere Nascosto lì Là dietro Non si sa Non si sa Allora Ricontrolliamo un attimo Qui Anzi Soprattutto qui Chi è questo Da Regà Pensavo che era il limoncello Mi sembrava La maschera del limoncello Non ce voglio crede Mi ha trollato la boa No Qui non c'è Non c'è No no Regà Dove sta Dove sta Mi sa che tra poco Scattano gli indizi Mi devono scrivere Acqua E fuoco Dai sono Ti bagga qui No No regà Se muoio Ok ok Sono vivo Ma deve salire Saliamo qui Ok Ho scritto a giovi Di darmi qualche indizio Cioè praticamente Caro Pozze o giovi Mi devono scrivere Acqua e fuoco Allora Io controllerei Un altro po' Intanto che Scattano gli indizi Oh ma non è il solito Qui Aspettate un attimo Che mi hanno scritto A destra A destra Nella parte destra Allora Quindi Io stavo qui Quindi Di destra E lì Andiamo Regà Spero Perché se stavo qui Anzi Se stavo qui Destra era qua Non lo so Regà Che indizio è Dipende come sto messo Sui Allora No Eh sì Mi sa che stava qui Credo Ma che stava qui Non l'ho visto Regà Regà Giove mi ha scritto Che ci sono passato Ma non l'ho visto Veramente così Ciacato sono Dov'era? Dov'era Regà Tutta colpa Della maschera Del limoncello Dov'era? Stava qui Non lo so Non lo so Regà Aspettate Fuoco Guarda 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 E quindi Sta qua Chi è? No Non c'è nessuno Regà Sta qui Sta qui Da qualche parte Però io non riesco A vederlo Mi sembra normale Una cosa del genere Tu sta Qui No Vediamo cosa indica Ma come mi indichi qua? Quindi sta qui Aspettate un attimo Sta qua Regà No Non riesco a vedere bene Chi è sto casino Aspettate Aspettate Dai non è possibile Ehi Ehi Limoncello Eccolo Regà Eri te sui? Stava qui? Regà Io Io sono passato qui No Sì sicuro Non è che mi sta trollare sui? No Quanti siete? Sì siamo in 5 Era lui Io non aspettavo tipo la maschera Non c'eva la maschera del limone Quando abbiamo iniziato Non c'eva Io credo Io sono passato qua 700 volte Eh sì Era Caroz Regà Non c'eva Io crede Allora Mettiamoci Tutti nella torretta Sì sì Ok regà Oh Giovi No Giovi ci ha abbandonato Regà No No regà Che state a combina Tutti che cascano Ok Allora Il nascondino Finisce qui Fatemi salvare se vi è piaciuto Il nascondino A caio perico Guardate che panorama Spettacolare Noi Ci buttiamo giù E ci becchiamo Al prossimo video Bella